Ah ciao a tutti Contractor e l'abbiamo insieme, Iain Isolation all'Università di qua l'ultima volta quando dobbiamo portare un kit medico alla nostra campagna ferita ma c'è lo strozzo che giura qui e siamo tutti perché non riusciamo a capire Dove diavolo sia, forse è su Forse è su, beh, è la volta buona che è su Cazzo sì Dio santo Ciao Ciao Sì, perfetto Ciao ragazzi, bentornati dai Games Brothers Tronati, ciao Ancora con lo strozzo Ma c'è anche qui, eh Giù, via Dai mo, che tipo lenta Dai, amica mia Che cavolo Andare a far jogging ogni tanto Sparta Sparta Ho capito lo Sparta Dai Sì, stai una cosa stessa qua Che palle Che palle Oh, man Oh, freaking No, non è un armadetto Caccio Caccio Ma perché Non c'è una coglionassa Madò 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 Questa è tirotta in faccia Questa è tirotta in faccia Madò, madò Bello Bella le foto familiari Dei prodotti Quelli del gioco Vero Sì, ma Eh, vabbè Eh, ma Eh, vabbè Oh, c'è il fermo Cosa diavolo è successo Beh, non ne ho idea Davvero Solo trombone Il tocco magico Sì, ma basta Trombone e alien Si mettono d'accordo Basta però È sempre attaccato al cazzo A me questo è stupido Ma lì c'è un armadetto Che può essere utile Oh, man Oh, man Cacciarola Sì, vabbè Però, oh, c'è Dovrebbe darti un attimo Più di spazio Madò Perché non è possibile Va bene Le sessioni in cui ce l'hai Lì vicino Però, oh Non riesco a muovermi No, riesco a muovermi Ok, ciò dovrebbe scoppiare Il fuoco E qui dovrebbe arrivare Maggiala Maggiala Dentro, dentro, dentro Sì, sì, sì Guarda che cogliona Guarda che cogliona Madò È proprio un deficiente Sono due idioti Uno e due Madò 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 Niente Oh, rimani qui Mamma Ci chiama poker Eh? Chiama carte Ma che cazzo è andato Adesso Brutta idea Brutta idea Beh, non lo vedo Guardalo Ok, è uscito Della camera Per essere uscito È uscito Ok Lontano Sembra essere lontano Ok Cosa? Non penso di aver capito bene Stai scherzando Stai male Giù bello Giù bello Giù bello Sai che saremmo messi anche qua L'altra volta È stremo È stremo È stremo Ti vedi cazzo? Ma che cazzo Sempre qua Ti è sempre attaccato al culo Sto pezzo di Alien Di alien Di xenomorfo È fatto male Ma è fatto bene È fatto Dai Vai via Brutto 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 Eeeh Vabbè Vuoi anche un bacino? Che cazzo Che belle le funzioni Che bella la matematica Vero Trommel? Sì bella Questa è la bolletta Che non ha pagato E quella Noi non abbiamo ancora No Trova la tessera 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 Oro Oro Sale 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 Mamma mia Sale Sale Strasale Sì Ok Sì Ora ho colato questo Dove è la tessera D'accesso Magari sei qui Magari c'è Chiusura Bapola D'emergenza Ok Che cosa sono? Che cosa Me ne faccio? Allora Oh è lì È lì Oddio Codice d'accesso Non ci credo Capito deve essere E dove diamo la trina Non è il codice d'accesso Adesso In un terminale Forse In un terminale Un terminale Allora Aggiornamento Niente Per se non ho permesso Dottoressa Lingard Sono Ransom Ti ricordi di me Il tuo amico Dirigente Baffangale 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 Non mi passi a salutare Non c'è di mai Non c'è di mai Non c'è di mai Non c'è di mai Aggiornamento e codici 2505 Codice è 2505 Ok 2505 2 No Ce l'ho Ce l'ho Oro Sì Vai 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 Mia Prendila Prendila Salva Salva Di brutto Ok Sì Perfetto Adesso Vai Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Trombone Le bestie Le bestie Usa tessera d'accesso Ok no Forse no Prova No Niente Non c'è Non c'è Ma non c'è Ma Madonna Non c'era Prima Quelcosa Non c'era Prima Ricerca Ricerca Beh certo Già che ci siamo Che bianna piranza Guarda È dietro Eh vabbè sì Eh vabbè sì Eh vabbè sì Cosa Si sta limonando un armadietto Cosa sta facendo Oro Salito Straoro Entra 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 Sto schifo Di roba Beia Beia Scusa Eh Ok Ok A posto Terremoto Terremoto Che cazzo Che cazzo Che cazzo dici È davvero un inferno Che cazzo pensi Che schifo Che schifo di situazione Beh Oh ci siamo Bene È qua È qui Raccogli Che cosa raccolta Samuels Sono medicinali No ma quella lì è uscita appena l'aliena dal tetto Oh mio dio Ma forse sono delle persone dai Ho capito Eh infatti Oh 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 man Sono cattivi dici Ovvio Revolver Revolver La manetta Fammelo Ci sei colpi Beh Chiaro Se i colpi bastano avanzano Caricare tutte Ok Vabbè In un'altra vita il mio turno sarà iniziato adesso Eh Devo andare in là Non so Ok Sono anche il manganello elettrico volendo Beh sì Però dovrei andare di fortività Ah sicuramente con la pistola Dio santo Sono in treni Ma guarda 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 Uh ma sto scattando È il momento È il momento Trombone I soccorsi staranno arrivando giusto? Ci sta Scusa Scusamelo 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 No è andata all'altra parte Che troll Oh lì Che cos'è quella Ah razza Raggiù Beh Scusamelo Oh scendi giù In questa struttura lavora su degli infermieri androidi Per ricevere si è persa dalla razionale No 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 Di dentro Perché sa quella parte Ok Comunque scusamelo Sì no ma che gesto hai fatto È fiero lì con il revolver comunque per sicurezza Eh Poi però li evita di brutto E poi li evita di brutto A parte loro sono delle torte Hanno l'intelligenza di una Sì loro sono delle torte davvero Exit Io vedo exit Uh uh No è bloccata Però vedo altri canali Altre exit Vedo altre di exit Che cazzo perché è rossa Perché è rossa È staccato È staccato No sto scherzando È staccato È l'unico modo per arrivarci Ripley è un ospedale pubblico Ci sarà una procedura di evacuazione Eh procedura di evacuazione Avvia la procedura di evacuazione Certo Così magari tutti sentono che ci sono Non c'è problema Eh ma c'è lui che gira Scusa Come? Scusa Ti sta orando Ti stai orando? Ti è brutto Dici che ti sta orando? Che cazzo dici? Oh Anche io ma di brutto Anche io ma di brutto Ciao Ciao Ciao!